Per candidarmi alle prossime elezioni della FIGC c'è bisogno dell'indicazione dei delegati della Lega Nazionale di Lettanti. Noi abbiamo sempre dato segnali di grande responsabilità, sempre in ottica di sistema. E ricordo che rappresentiamo il 34% del Consiglio. Così Cosimo Sibilia sul proprio profilo Facebook. Il numero uno della Lega Nazionale di Lettanti e attualmente vicepresidente e vicario del massimo organismo calcistico italiano, punta alla poltrona più alta. La notizia circolava da tempo, Sibilia per riuscire nell'impresa cerca l'apporto della sua fetta di calcio. Non poco tempo fa aveva dichiarato se i delegati della LND mi chiederanno di candidarmi lo farò. Al momento non ci sono candidati. Pronto quindi a sfidare Gabriele Gravino con cui negli ultimi mesi non è stato tutto rosa e fiori. Ma da indiscrezioni emerse Sibilia potrebbe anche scegliere l'Europa candidandosi ad un posto da delegato UEFA. Per ora non ci resta che aspettare e capire cosa accadrà nel calcio italiano. Di sicuro Sibilia proverà un'altra volta l'assalto alla vetta.